Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Catania dove i carabinieri hanno effettuato dei controlli per contrastare il mercato nero dei ricambi di auto. Un commerciante è stato denunciato per ricettazione. Il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno proseguendo nell'ampia azione di contrasto ai furti e alla ricettazione di parti di autovetture o motoveicoli al fine di colpire il fiorente mercato nero di ricambi d'auto. Un fenomeno delinquenziale complesso che trae origine da diversi fattori come ad esempio la ridotta possibilità di reperire sul mercato lecito e in tempi brevi i pezzi di ricambio che necessitano all'interno di chip o cavi elettrici o anche la presenza nelle marmitte catalitiche di metalli pregiati come il erodio o il palladio il cui valore arriva ad aggirarsi anche a qualche centinaio di euro al grammo. In questo contesto operativo i militari del nucleo radiomobile del reparto operativo di Catania hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un commerciante di autoricambi già noto alle forze dell'ordine la cui attività commerciale è situata nella zona di via Zia Lisa a Catania. Nel corso del controllo effettuato presso quel punto vendita è stato rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di pezzi di ricambio dal valore di oltre 3.000 euro di verosimile provenienza illecita di cui il proprietario del negozio non è riuscito a dimostrare il legittimo possesso e la reale provenienza. Il deferimento odierno è solo l'ultimo di una serie di concreti risultati operativi ottenuti grazie alle mirate attività di controllo avviate dal comando provinciale Carabinieri di Catania. Solo dallo scorso gennaio, in riferimento a questo fenomeno delinquenziale, i Carabinieri di Catania hanno già operato sei arresti in flagranza e sei denunce a piede libero. Tale attività di contrasto continuerà nel prossimo futuro, tuttavia l'azione repressiva posta in essere dall'arma di Catania per essere ancora più efficace dovrà essere necessariamente sostenuta anche dalla cittadinanza che deve evitare di rivolgersi al mercato nero parallelo di parti d'auto poiché questa condotta irresponsabile non fa altro che alimentare esponenzialmente il fenomeno dei furti di autovetture o di parti di esse, creando così un circolo vizioso senza fine. Droga da spacciare nel congelatore di casa e una pistola clandestina nella pizzeria che gestisce. Per questo un 47enne di San Cipirello nel Palermitano è finito in manette. I Carabinieri della stazione di San Cipirello hanno arrestato un 47enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina. I militari, notato nei giorni precedenti un viavai sospetto nei pressi dell'abitazione dell'indagato, in particolare durante le ore serali, hanno predisposto un mirato servizio antidroga nel comune di San Cipirello. All'interno della casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono state rinvenute 70 dosi di cocaina destinate alla vendita al dettaglio. Lo stupefacente è stato ritrovato all'interno del congelatore, dove l'indagato avrebbe tentato di nascondere la sostanza nel tentativo di occultarne la presenza all'arrivo dei Carabinieri. Inoltre, nel corso della perquisizione, è stata trovata la somma di circa 1.600 euro ritenuta provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla pizzeria, gestita dal 47enne, dove è stata rinvenuta, nascosta in un intercapedine, una pistola a tamburo calibro 38 con matricola a brasa, con caricatore con otto proiettili, perfettamente funzionante. L'arresto dell'uomo è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere dello stesso che è stato associato presso la casa circondariale Pagliarelli. La droga sequestrata, che avrebbe potuto fruttare migliaia di euro, verrà analizzata al laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo. L'arma, con matricola a brasa, è stata invece inviata al raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti balistici, dattiloscopici e biologici finalizzati a verificare la provenienza dell'arma e se la stessa sia mai stata utilizzata. A Patti, nella Messinese, un 35enne è stato invece arrestato dalla polizia per un tentativo di estorsione. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Avrebbe preteso la somma di 2.000 euro e minacciato la vittima e i suoi familiari ripetutamente se non avesse ceduto la richiesta di denaro gli avrebbe sparato contro, incendiato l'auto e persino l'attività commerciale. E quanto emerso dal lavoro di indagine svolto dai poliziotti del commissariato di Patti dopo che la vittima aveva chiesto aiuto denunciando quanto subito. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio allorquando l'autore si è rivolto a un suo vecchio amico per avere ospitalità essendo in quel momento impossibilitato a utilizzare la sua abitazione. Da qui si sono susseguite delle richieste con un'escalation via via sempre più pressante e insistente quali fargli da autista fornirgli un telefono cellulare fino ad arrivare alla pretesa della somma di denaro di 2.000 euro. La situazione si era fatta ormai insostenibile tanto che la vittima era arrivata al punto di non uscire quasi più di casa per paura delle possibili ritorsioni del suo aguzzino arrivato a minacciare di dar fuoco allo stabilimento balneare che l'uomo gestisce a Patti. Per essere sicuro di riuscire nel suo intento l'estorsore aveva minacciato direttamente anche i familiari della vittima estendendo anche a loro la richiesta estorsiva della somma di denaro. Le risultanze investigative hanno confermato il grave quadro indiziario e reso possibile l'emissione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti ed eseguita dagli stessi poliziotti del locale commissariato. L'indiziato, un 35enne nato e residente a Patti è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione della braccialetto elettronico. Andiamo adesso a vedere un bilancio dei controlli effettuati invece in città a Messina dagli agenti della Polizia di Stato negli ultimi giorni. Sono davvero tante le sanzioni elevate ci sono anche 11 persone denunciate. Vediamo il servizio. Prosegue il quotidiano controllo del territorio operato in città dalle volanti della Questura di Messina. Negli ultimi 10 giorni le volanti hanno denunciato all'autorità giudiziaria 11 soggetti resisi responsabili di diversi reati, tra cui porto abusivo di armi, stalking, violenza sessuale, lesioni e danneggiamento. Due i fogli di via obbligatori notificati a soggetti originari di Adrano con diversi precedenti per i reati di furto e truffa individuati dagli agenti in territorio messinese mentre si aggiravano con fare sospetto. Tra i soggetti denunciati, un messinese di 21 anni a cui è stato contestato il reato di porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Il giovane, in particolare, sottoposto a un controllo lungo la via del Santo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri che teneva in una delle tasche dei pantaloni. Nell'altra tasca, invece, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente una dose di cocaina per la quale è stato segnalato alla competente autorità amministrativa. In totale, negli ultimi 10 giorni, sono 13 i soggetti ritrovati in possesso di droga e segnalati alla prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti tra cui crack, ascice e marijuana. Denunciato altresì un messinese di 55 anni per il reato di furto, l'uomo avrebbe sottratto una chitarra che il legittimo proprietario, una musicista del coro della parrocchia di San Domenico, aveva lasciato in chiesa dopo le prove all'interno di uno dei confessionali. I poliziotti delle volanti hanno ricostruito l'episodio e dopo aver avvisionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno in poco più di un'ora ritrovato la chitarra nell'abitazione di un 55enne messinese, soggetto noto alle forze di polizia con numerosi precedenti penali. La chitarra recuperata è stata subito restituita alla proprietaria. Inoltre, negli ultimi giorni, gli agenti delle volanti hanno dato esecuzione a una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di maltrattamenti in famiglia. Infine, le volanti hanno proceduto a sanzionare un messinese di 26 anni che a un posto di controllo lungo il viale Giostra ha ignorato l'alt polizia tentando la fuga a bordo della propria autovettura per poi essere raggiunto e fermato dalle pattuglie. Nei confronti del 26enne, in atto sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e privo di patente perché mai conseguita, i poliziotti hanno elevato numerose sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 6.300 euro procedendo altresì al sequestro e fermo amministrativo del mezzo su cui viaggiava privo di carta di circolazione, di revisione e di copertura assicurativa. A margine dell'attività svolta, negli ultimi dieci giorni i poliziotti hanno sottoposto a controllo 1.793 persone e 692 autovetture elevando 17 sanzioni per violazioni al codice della strada. Ancora controlli da parte della polizia stavolta nel territorio della provincia di Caltanissetta e qui sono ben 18 le persone denunciate dagli agenti. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La polizia di stato di Caltanissetta nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia ha denunciato 18 persone e seguito 15 perquisizioni e sequestrato cocaina e cannabinoidi. Sono 18 come detto i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti della polizia nel corso dei servizi di controllo del territorio. Si tratta di un ventenne denunciato per rapina un quarantenne per tentato furto e un cinquantenne per truffa e ancora due quarantenni sono stati deferiti per lesioni personali tre persone per maltrattamenti in famiglia due per minaccia un sessantenne per violenza sessuale tre ventenni per detenzione di sostanze stupefacenti e quattro per altri reati. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione al traffico e spaccio di droghe sono state sequestrate cocaina e cannabinoidi mentre sono 15 le perquisizioni eseguite dagli equipaggi della polizia in servizio di controllo del territorio. Ed ora a Catania per parlare dell'evento sport e benessere ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Si è svolta in piazza Università Catania la seconda edizione di sport e benessere una vera festa dello sport sul campo 14 scuole che si sono dati battaglia nella disciplina sportiva più importante la voglia di fare sport nella maniera più genuina al di là della valenza agonistica di un risultato. Quasi un migliaio di ragazzi che nello scenario di piazza Università per qualche ora trasformato in una sorta di centro polivalente hanno vissuto momenti di spenseratezza veicolati da un pallone una racchetta un tappeto elastico. Giornata di festa oggi a Catania grazie anche a una temperatura straordinaria ma vedo molti giovani molti ragazzi molta gente che ha voglia di cultura di sport soprattutto il CONI non poteva non essere presente anche a questo evento. non solo ma promotori di eventi in cui l'offport deve essere al primo posto dove l'offport lo sappiamo socializzazione rispetto agli avversari attaccamento alla maglia quindi tutti quei valori che oggi sono fondamentali nella nostra civiltà oggi ovviamente con circa mille ragazzi delle scuole diamo dimostrazione di allegria e di serenità. Qual è il messaggio che deve uscire dopo questa giornata è sicuramente straordinaria qui a Catania? Il messaggio che lo sport è vita il messaggio che con lo sport si possono risolvere tanti problemi e che bisogna stare attenti per aiutare l'associazionismo sportivo in tutte le sue forme lo sport è il veicolo più trasversale della promozione sociale che anche un giornale ha il diritto e il dovere di andare a fare noi lo facciamo oggi vogliamo farlo per ogni giorno essendo sconda delle forze più vive della città dei dirigenti scolastici per accogliere le loro istanze le loro richieste fare sport in piazza è bellissimo ma noi sappiamo benissimo che le scuole devono avere delle strutture adeguate delle palestre adeguate al contesto alle necessità dei nostri ragazzi sappiamo che non sempre è così e quindi noi siamo qui per promuovere lo sport come veicolo sociale ma siamo qui anche per raccogliere le istanze che vengono dal territorio da questi volti bellissimi dei ragazzi e da chi li accompagna in piazza Giuse, oggi è una giornata sicuramente di sport abbiamo visto tanti giovani e sicuramente anche da una sportiva deve partire il messaggio giusto quale? è che lo sport in tutte le sue manifestazioni è condivisione è porsi un obiettivo è disciplina è crescita anche quando cadi soprattutto quando cadi e perdi impari dallo sport quindi è scuola di vita vedere tutti questi ragazzi che fanno tutte le attività sportive è sicuramente e soprattutto in questo periodo storico che sono stati chiusi per due anni e dietro una tastiera o uno schermo del computer è sicuramente un momento di gioia per loro è un momento di svago di condivisione come dicevo prima non lo so io farei un lido tutto di giovani un lido al mare con delle porte da pallannuoto da regalare ai ragazzi di Catania per quanto mi riguarda nel mio futuro vedo la pallannuoto vedo condividere insieme ai ragazzi le mie esperienze anzi dare a loro la possibilità di vivere insieme a me e di rivivere insieme a me tutto quello che io ho vissuto in questi anni è tutto ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 grazie a tutti